Una ricerca sulle best practice condotta a livello europeo attesta il Piemonte tra le assemblee legislative più attive nel campo dell'idemocracy, trasparenza e partecipazione dei cittadini. L'indagine è stata condotta dal Parlamento dell'Andalusia, coordinatore del gruppo di lavoro sull'idemocracy della conferenza delle assemblee legislative regionali europee, Calre. Obiettivo dello studio era quello di misurare l'evoluzione dei parlamenti regionali europei nell'utilizzo degli strumenti digitali per favorire la partecipazione democratica.